Cinquantesimo anniversario dell'inizio degli scavi a Moio della Civitella, un'occasione in più per accendere ulteriormente i riflettori su questo patrimonio che è di tutto il territorio occidentano. Con lei sindaco ci siamo visti più volte, abbiamo visitato insieme anche gli scavi, abbiamo fatto vedere i recenti lavori che hanno mostrato in tutta la loro bellezza, ecco le mura che delimitano l'antica città. Ora sarete presenti anche alla Borsa Mediterranea del Turismo archeologico, questo cinquantesimo deve avere diversi significati. Sì, innanzitutto ringrazio l'architetto Scarpa e l'avvocato di Vietri che si sono adoperati proprio per far sì che il comune, quindi il sito archeologico, fosse presente qui alla Borsa archeologica. Perché la Borsa archeologica è sicuramente una vitrina importante per promuovere il territorio, in particolare il sito archeologico della Civitella, che non è, il nostro territorio non è solo arte, cultura, storia, ma è anche natura, l'ambiente naturalistico è bellissimo. Quindi è un ulteriore motivo per venire a Moio a visitare questo sito archeologico. Ecco, cinquantesimo, come dicevamo lei, momento anche per riaccendere i riflettori, avete pensato ed organizzato diversi momenti, il primo sarà sicuramente anche quello della Borsa Mediterranea del Turismo archeologico, ma secondo lei che cosa in questo momento necessita, di che cosa in questo momento necessita il sito archeologico di Moio della Civitella? Sì, allora, innanzitutto è importante continuare anche i lavori di pulizia lì del sito, tant'è vero che abbiamo fatto in modo che c'è un progetto, in modo che periodicamente, ogni anno viene pulito, vengono sistemati questi, vengono fatti dei lavori per far sì che vengano alla luce anche alcuni reperti che da anni non si vedevano, erano un po' dimenticati nell'oblio, diciamo. Poi io penso una cosa, sì la Borsa archeologica è fondamentale e importante, però io immagino dei pacchetti turistici, non so, forse è un po' ambizioso, però non lo so, se Pestum, Velia, la Civitella, magari parlare un po' con... Ma viene fuori il sin? Eh sì, proprio per fare in modo che, non so, è chiaro, se a Pestum arrivano 40.000 persone, a Velia ne arrivano 10.000, facciamo in modo che i 5.000 arrivino sul sito archeologico della Civitella. È importante iniziare a parlarne, ecco, ad essere propositivi. Qui con noi c'è l'architetto Luigi Scarpa, 50 anni fa iniziavano gli scavi, lei ha trascorso sicuramente tanti tanti anni, li ha dedicati proprio al sito archeologico di Moio della Civitella, lei è di Moio, quindi voglio dire, quando si è innamorato del sito archeologico di Moio? Ma, appunto, quasi 50 anni fa, erano i primi tempi, eravamo bambini delle scuole elementari che con curiosità visitavamo questi monumenti, queste cose antiche, per noi erano appunto un castello, erano l'immaginario di tutti quanti. Io ho lavorato, ho seguito gli scavi della Civitella dal 76, cioè quando lo scavo venne affidato all'università francese della Sorbona, coordinata dal centro Jean Berard di Napoli, quindi da allora li ho seguiti praticamente con continuità, dedicandomi dapprima alla documentazione, rilievo, e poi successivamente con una maggiore competenza scientifica abbiamo fatto due interventi di restauro che ci hanno restituito delle strutture oggi visitabili e fruibili, certo anche grazie al sacrificio dell'amministrazione che la tiene in manutenzione negli ultimi anni con una certa continuità. Ecco il sindaco l'ha detto, insomma deve essere un momento di svolta, erenamente nel volto indichiamo il sito di Moio come sito minore rispetto a Velia, rispetto a Pestum, è questo un errore che forse non dobbiamo fare più? No, esistono molti nuclei e siti archeologici interni, Moio è uno di questi, ma anche Rocca Algoriosa, che ha avuto anche la fortuna di poter restituire degli importantissimi tesori. Noi anche a Moio auspicheremmo di poter continuare anche nello scavo archeologico, perché sono stati individuati anche in collaborazione con la sovrintendenza, delle persistenze di aree di necropoli e altro che potrebbero restituire materiale molto più interessante rispetto a quello dell'abitato che ovviamente è molto più modesto e che certamente auspichiamo di riavere in parte a Moio per allestire un primo nucleo museale, ma certamente c'è molto altro ancora da scoprire. Questo cinquantesimo deve essere un inizio? Sì, il cinquantenario, appunto questa celebrazione è servita prima di tutto per discutere anche a livello locale e di una maggiore consapevolezza e di avere un ruolo diverso nel processo di valorizzazione, dove la valorizzazione deve essere fatta dai territori, quindi attraverso le associazioni coordinate alle amministrazioni pubbliche naturalmente, ma un ruolo fondamentale ce l'hanno le associazioni, ce l'hanno i privati a partecipare alla progettazione di elementi di varia natura per quanto riguarda la sistemazione dell'area, di comunicazione e anche di copartecipazione. In che modo i privati possono dare il loro contributo? Beh, oggi esiste il bonus archeologia, cioè ci sono la possibilità di investire sui beni culturali, ma anche di promuovere attraverso le loro attività il territorio stesso, attraverso la comunicazione e quindi noi vogliamo mettere a disposizione di questi soggetti del materiale adatto a poter essere distribuito, a poter essere promosso, eccetera. Noi questo materiale, come al solito, lo mettiamo a disposizione gratuitamente, in maniera libera. Ci sono indicazioni per approfondirlo sul sito di Parco della Civitella, come pure abbiamo con curiosità la possibilità di poterci arrivare. Qui abbiamo dei servizi già attivi che possono calcolare i percorsi per arrivarci, indicare le altre cose. Quindi è una copartecipazione, cioè prima di tutto per fare acquisire consapevolezza dell'importanza del patrimonio in generale, farlo fruire, renderlo comprensibile in modo migliore possibile e quindi farne innamorare tantissime altre persone che avranno ovviamente l'oneroso compito di portarlo poi per le generazioni successive. È chiaro che c'è un'organizzazione, la vostra presenza qui, insomma la partecipazione alla borsa, poi il roll-up che ci avete portato. C'è tutta un'organizzazione, qualcosa si sta muovendo per Moio della Civitella. Sì, 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 non che Moio della Civitella sia stato in passato inerte, fermo. C'è un maggiore dinamismo, ribadiamo quello che abbiamo considerato prima, cioè che questo cinquantenario è diventato un pretesto per marcare il dibattito e organizzarsi in una forma un po' meglio strutturata rispetto all'episodicià del passato e quindi avere una maggiore continuità di presenza. Ringraziamo anche Genio Sloci, un'altra associazione che opera molto sul territorio, con cui abbiamo una sinergia molto stretta e credo molto efficace. Molte altre associazioni stiamo contattando in modo da creare anche una rete, di fare un sistema territorio nell'ambito del Cilento in modo tale da poter condividere metodi, modelli, criteri, logiche e così via, in modo da presentarsi come un sistema territorio. Avete scelto questa foto non a caso, proprio per simboleggiare il cinquantenario. Sì, è molto evocativa, è un reperto che è stato scoperto, tra virgolette, nel suo significato solo recentemente, anche se è noto da tantissimi anni, perché è stato attribuito a una fattura lucana, cioè qui è rappresentato una sorta di ex voto fatto da un guerriero lucano nel IV secolo, che nonché i lucani abbigavano nel territorio di Velia, ma erano dipendenti dei Velini, erano militari, a soldati di Velia, per controllare i confini interni del territorio stesso. Questo è un ex voto che proviene dall'area della Civitella, almeno è stata ricostruita la sua provenienza da quell'area, che è molto evocativa e molto interessante. Ha una sua storia, poi la racconteremo in qualche altra occasione. Infatti è difficile racchiudere in pochi minuti 50 anni di lavoro. Allora Giuseppe, tu rappresenti l'associazione Genio Solloci, da sempre attenta a quello che è il patrimonio archeologico del Cilento. Sì, Civitella 50 diventa il pretesto per fare cultura della cultura, ossia non solo parlare delle cose, ma parlare di tutto quello che ci sta dietro attorno alla tutela e alla valorizzazione di queste testimonianze, che hanno dei valori aggiuntivi rispetto ai valori storici, ma hanno dei valori di crescita e di sviluppo per il territorio, di crescita personale, di crescita collettiva, di crescita anche economica. Il percorso che stiamo facendo con Genio Solloci è proprio quello di puntare ad uno sviluppo culturale, uno sviluppo locale a base culturale, facendo innanzitutto conoscere quelli che sono i nostri valori, i valori di un sito unesco, diffuso, come il nostro, nella speranza che si maturi una sensibilità verso questa direzione. Poi i ragionamenti da fare sono tanti, avremo modo di affrontarli. Allora Sindaco, un messaggio è importantissimo sicuramente in questo momento, è quello di venire a visitare, forse gli stessi cilentani non sono mai stati sul sito di Moio della Cilento. Sì, questo sì, sicuramente, perché noi cilente anni, magari siamo stati a Londra, siamo stati ad Oslo, siamo stati un po' dappertutto, però magari non conosciamo il cilento, perciò è necessario, anzi è opportuno venire a Moio, visitare il sito archeologico della Civitella. Quale è il suo messaggio in occasione di questo cinquantenne? Sì, allora, innanzitutto invito tutti i cilentani a visitare questo sito archeologico. Venendo a Moio possono trovare, possono profittare per visitare anche il Museo della Civiltà Contadina, che da poco abbiamo inaugurato la nuova sede, possono visitare un antico mulino ad acqua, che risale al 1700, da poco restaurato, e in più possono gustare dei prodotti enogastronomici locali. Allora, architetto, come dire, abbiamo già detto, è difficile racchiudere in pochi minuti quello che è un momento importantissimo del territorio cilentano. Ecco, però, da una persona appassionata, esperta, come lei, che ha dedicato tantissimo tempo, qual è il messaggio più importante, secondo lei, in questo momento? Ma il messaggio più importante è appassionarsi a queste cose. Noi stiamo cercando di portare nelle scuole, soprattutto nelle scuole di primo livello, di primo grado, questa nostra passione, perché è solo appassionandosi alle cose che si capisce l'importanza, il ruolo e la bellezza che queste cose hanno, e il ruolo stesso della bellezza delle cose. Cioè, il patrimonio culturale, prima di tutto, al di là della valenza, in generale, diventa un momento di crescita individuale, crescita della persona. Il fatto educativo del patrimonio è importante. Essere educati alla bellezza è fondamentale. Noi, con la Civitella, ne abbiamo un esempio di particolare interesse, come diceva anche il sindaco, che integra la cultura materiale, la storia, la religione, la biodiversità, siamo nel Parco del Cilento, quindi c'è anche questa componente. Tutte queste bellezze devono ritornare ad essere, come nelle generazioni precedenti, non solo nella mia, ma quella dei nostri genitori, una molla, un meccanismo che ci fa, che ci lega al territorio e quindi ci fa crescere in una situazione molto diversa rispetto a delle crescite forzate che ho, a cui oggi assistiamo di altra natura. Il tuo ricordo più bello è legato proprio agli anni in cui si lavorava a Moia? Ma, i ricordi ce ne sono tantissimi. Infatti abbiamo intenzione anche col sindaco di riproporre una foto, così, una ricognizione fotografica dei giorni, ma la passione della scoperta, del vedere uscire un po' alla volta questi monumenti da un terreno che in apparenza era nullo. Ecco, questa è anche la curiosità di capire che cosa fossero insieme agli archeologi e quindi un po' alla volta venire fuori quello che è il tessuto dell'abitato attuale, che è particolarmente interessante e ancora deve essere tutto studiato. Infatti per questo è pronta e disponibile, e speriamo che l'anno prossimo possa trovare la luce, un'edizione della pubblicazione dei vent'anni di ricerca archeologica tra il 76 e i primi anni 90 e fatti dal Berard. Un po' in ritardo, però stiamo aspettando questo volume e forse l'anno prossimo faremo questa conferenza a Moio di presente con gli archeologi, tutti quanti, e in cui speriamo che avremo il volume a disposizione. Quindi si va avanti. Sì, sì, sì. Ci hanno assicurato della pubblicazione di questo volume. Non lo so, forse c'era un po' di dietriba tra il fatto se si trattava di un zitto lucano greco, però poi alla fine penso che è stato risolto tutto. Oltre alla pubblicazione di questo volume ci hanno assicurato che, e questo penso a breve, forse addirittura prima entro fine anno, molti dei reperti trovati lì sulla Civitella verranno riportati a Moio. Alcuni reperti, un centinaio di monete, mi diceva la Granese proprio l'altro ieri, che lì stanno restaurando queste monete per poi esporre lì a Moio. Alcuni per tutti,